Ciao, sono la professoressa Genna e sono una lifelong learning coach. Che cosa vuol dire? Sono qui per spiegartelo e per cambiare un po' il paradigma della tua vita. Di solito tendiamo a relegare l'apprendimento agli anni scolastici, invece ultimamente l'idea di apprendimento sta cambiando. Infatti è nato l'apprendimento continuo o lifelong learning. Un apprendimento che ti accompagna fin da prima della nascita e ti accompagnerà per sempre. L'apprendimento infatti non è una cosa che dobbiamo relegare solo alla fase di studio. L'apprendimento è continuo e qualsiasi cosa noi apprendiamo in un campo possiamo poi anche applicarla nell'altro. Da qui quindi ciò che si chiama il problem solving. Molte scuole infatti si stanno adeguando a queste tecniche di problem solving per basare tutto il loro programma scolastico. Quindi l'apprendimento è continuo e da cosa dipende? Dal nostro mindset che deve essere aperto, libero, libero soprattutto da pregiudizi. Troverete varie rubriche nel mio canale. La prima è Mattimateci, visto che le scienze sono le regine praticamente che ci aiutano a creare questo tipo di mentalità, di questo tipo di mindset che appunto ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Abbiamo anche la rubrica Take It Easy con dei consigli per rendere la vita più semplice e la rubrica Rilassarsi in cui vi porrò delle meditazioni guidate a te proprio a rilassare, a svuotare la nostra bella testa pronta per essere riempita di nuove nozioni facili e divertenti. Perché la vita è semplice, ragazzi, non ce la complichiamo. Ciao!